Ciao ragazzi, cosa abbiamo oggi? Friggitelli che andremo a fare ripieni di ricotta, acciughe, capperi, un po' di pepe, filo d'olio e andremo a cucinare in forno a 180 gradi, 15 minuti. Ci siamo un po' anticipati, quindi i peperoni ne abbiamo già tagliati e puliti, quindi li abbiamo svuotati all'interno di tutto e abbiamo lasciato le teste dei peperoni. Quindi andiamo ad impastare la nostra ricotta, quindi dopo aver impastato la nostra ricotta, adesso andiamo a riempire il nostro patta posta per farcire i nostri peperoni friggitelli. Quindi dopo averli farciti, gli abbiamo rimesso il coperchio, come potete vedere. Ok, siamo pronti per il forno, mettiamo un filo d'olio. Allora, i nostri peperoni sono pronti, i coperchi li abbiamo tolti, servono solo per la cottura, come potete riuscire al ripieno. E come vi dico sempre, un po' della caccia in solo a che chiaro usate.